Benvenuti a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale ed il nostro nuovo video, come al solito, io sono Gabriel, io Birillo, oggi andremo a far vedere il nostro nuovo liquido, vai Birillo, un liquido dell'Iron Vap, eccolo qua, Kurobi Ice, fresco per l'estate, per questo caldo che non ce la facciamo più, è un liquidozzo al melone ghiacciato, ha la boccetta col tappino che ora noi ci si è sciolto, ci è piegato, chiedendolo, ma che si può aprire di lato per andare a mettere poi la basetta, chi ci vuole la nicotina, noi a zero, noi a zero, abbiamo fatto 20 ml era l'aroma e abbiamo aggiunto 40 ml di basetta, a posto. Ora andiamo a fare la prova con il tubetto di Gabri, il tsunami kit, che funziona bene, va Gabri, Dripal, bello fresco, è una marca molto buona, ha fatto da dei bei liquidozzi abbastanza buoni, non abbiamo provati tanti di questa malta, a verona abbiamo provato qualcosina, fresco e fresco, e poi gli sente il melone, che non ci sta male, è bilanciato bene con il ghiaccio, non è qui, no, il ghiaccio non è leggero, però non dà neanche noio, a me piace, buono, che voto ci dai Gabri a questo liquidozzo? Ci do un 8, bello fresco e il melone poi mi piace, quindi, anche io un 7 e mezzo, io non è che sono molto dei fruttati, però come liquidozzo è bilanciato bene, Ricordiamo, prese dallo svappo caffè, Maria di Carale, Moriciara e la spezia, andatelo a trovare, allora, dalla taverna dello svappo è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale, mi raccomando seguiteci, usciranno nuovi video e noi vi aspettiamo, ciao!